Sono pronti a girare al 10, mi hanno detto i costumi, cosa? Come tutti insieme convocati alle nuove? No, 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 non tutti insieme, insieme, allora, prima le donne, le donne vanno anche alle nuove le azioni, poi uomini, ma ha detto il trucco anche i costumi che vi fanno in maniera molto veloce, in mente, ok? Che volete fare, ah? Eh, sono difficili. Quest'altro cane, vai, è facile. Sì, dai. Vai. Eh, non so che, no, non ci riesco. Eh, dai. No, no, non riesco a concentrarmi, dai. Vabbè. Eh, certo. Vediamo il silenzio.